In parte, dando una mano per l'uscita del micropristico, non abbiamo finito, l'attenzione è che c'è ancora tante cose, dipende cosa volete fare voi. Sabrina, devi dire qualcosa al pubblico. E' un pubblico stupendo e bellissimo. Io aggiungerai il calorosissimo, non ho altro da dire. Basta così. Cerchiamo un altro sospiro. Io direi grazie. Bene. Vediamo un po' qua. La voce di Stefano che si sentiva fuori dalle onde. Sì. Sì. Enrico. Io volevo dire soltanto un ringrazio a tutti per averci detto compagnie. Che saliva. Comunque, diciamo, grande. Anche la signorina che ha collaborato, la scuola di Danza di San Patucchio, la bella Epoca. E... C'è la mia. C'è la mia. Io direi invece che il primo applauso andrebbe direttamente a Giuseppe, che è stato il primo che è stato il primo applauso andrebbe direttamente a Giuseppe. È stato il primo applauso andrebbe direttamente a Giuseppe. Oh, all'entro Oh, ci metti il resto Tu sei così carina, so cosa tu per ti E non sei un po' troppo precisina Oh, carina Oh, ma che è precisina E allora amore quando vieni a stare un po' E non è che altrimenti mi raccomando senza te Ma sì Vengo da quel tigio Vengo da quel tigio Vengo da quel tigio Poter così Vengo da quel tigio Vengo da quel tigio Pensa il bici di un tigio T.V.C. T.V.C. Poter T.V.C. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.